Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. Io dico attraete a voi persone libere e non che siano attratte dalla vostra libertà. Perché chi è attratto dalla vostra libertà farà di tutto per sottrarvi, per allontanarvi da essa e cercare di sottrarvela, ma non ci riuscirà. Era corretto dire sottrarvi, perché chi vuole la tua libertà ti toglie te stesso. Ora, perché iniziare così questo discorso? Perché oggi sono qui per parlare di una canzone che parla di un amore puro, un amore grande. L'amore di un padre verso il figlio, ma attenzione, perché comunque spesso e volentieri quando si parla dell'amore supremo si parla di quello di una madre verso il figlio, il cordono umbilicale eccetera eccetera. Qui si parla dell'amore di un padre, però è anche l'amore di un educatore, l'amore di un insegnante, l'amore di una persona che sta con noi. Io ad esempio questo brano viaggia insieme a me, degli Eifer 65, l'ho usato recentemente per il trailer di uno spettacolo in quanto mi sentivo proprio parte di questo concetto da regista verso i miei attori. Questo è il concetto di cui voglio rendervi partecipi. Perché? Perché questa canzone innanzitutto trasuda italianità, ma è stato un successo anche internazionale. La musica elettronica, dance italiana, ha dei nomi che comunque si sono fatti riconoscere a livello internazionale. Perché? Ma perché c'è questo sentimento forte che noi italiani sappiamo trasmettere. Questa canzone è un colosso, un capolavoro dell'elettronica. E oggi anche ragazzi magari di un'altra generazione, gente veramente fuori contesto, quando la sente, impazzisce, gli sembra di volare, perché è una canzone bella, forte, che ha un impatto positivo, che ha un gioco elettronico, un gioco di arrangiamento pazzesco. Togliete le parole, togliete tutto. Ci si potrebbe fare una canzone di qualunque tipologia, veramente. E invece è un brano che fondamentalmente ripete lo stesso concetto, le stesse quattro parole. Ma non ti stanchi mai di ascoltarlo. Sono quelle canzoni che puoi mettere in loop per 40 minuti. Non ti stanchi. Non ti stanchi perché viene mostrato quel sentimento dalle varie sfumature, a seconda di come cambia la strumentale, di come cambia la tonalità con cui vengono cantate queste quattro parole. Viaggia insieme a me. Io ti guiderò. Tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu potrai fare a meno di me. E qui la grandezza di un amore che è capace di lasciare andare quando è il momento. Soprattutto se si tratta di un amore verso un figlio o un figlioccio artistico, che sia sportivo, eccetera. Capire quando è il momento di lasciare andare. Che la gabbianella può prendere il volo perché non è un gatto. Scusate questo esempio, però mi sembra proprio chiaro. È così, è così. E queste canzoni è sempre un piacere riscoprirle, metterle. Io mi faccio dei viaggi immensi, viaggi nella purezza del mio cuore. Perché sono canzoni che veramente ti portano un concetto di verità, verità estrema. Afer 65 con i loro quasi 6 milioni di ascoltatori. Grazie a hit come Blue, Dabadi, insomma, no? Con Gabri Ponte. O, insomma, Heaven, spettacolare. Questa qui, Italian Album, la versione italiana. No, ragazzi, io quando ho riascoltato questo brano dopo tanto tempo ho goduto tanto, tanto, tanto. E volevo condividere con voi la purezza. E a chi mi viene a dire, no? Perché spesso io faccio tante critiche a determinati generi. Ragazzi, come vedete, si può fare elettronica e dance. Si possono fare brani che poi sono hit per tutte le stagioni. Non solo estive, per tutto l'anno, per tutta la vita. Se si fanno bene, gente come loro, gente come Gabri Ponte, Gigi Doug. Cioè, è gente che ha portato veramente l'elettronica italiana in tutto il mondo. L'ha fatto perché cazzo quando sono fermi, seduti, su quei fottuti schermi che stanno preparando i loro progetti. Lo fanno con cognizione di causa. Lo fanno con testa, anima, cuore e cervello. C'è genialità. E questo è il discorso. C'è genialità senza la necessità di strafare. Viaggia insieme a me. Io ti guiderò tutto ciò che è sotto e lo insegnerò. Finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. E che altro c'è da dire? In queste quattro barre è racchiusa tutta la vita, tutto il senso della vita. Cioè, una persona che nasce, cresce grazie a qualcuno che magari gli ha dato e poi appena può restituisce al prossimo e al mondo. Questo è amore. E non ci hanno parlato di relazioni, non ci hanno parlato di niente. Nulla. Una semplice strumentale e quattro parole. Questa è arte. Grazie a tutti.